L'arte astratta Ho visitato una mostra poco fa che non so se tu come ti fai ha supportato i quadri che mi aveva scartato quasi tutto Lì era orientato da tutto questo astrattismo sul neorealismo sull'arte che la c'è ma l'informale sull'era insomma atomica spaziale Ho un pittore ho domande Scusi, in quel legno che cosa rappresenta quel disegno? Perbacco ma sponso di una fontana ma invece aveva ciappana scarana ho visto un quadri ma non si fai pastrocchi due gambe tre da schiena un nero due noci una mezza orecchia armata per un cervello e ho un lavoro con l'esda di po' bene se non fosse un pezzo se non fosse un pezzo che lui diria che lui aveva fatto ma è avverito ma vuoi stai timare? non è avverito ma 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 è avverito nessuno si difende per carità per un senso di ispirazione forse sarei per quel motivo noti in mille parti non ho l'età ancora per amarti non ho l'età ancora